Siamo qui con Mr. Camarotto al termine dell'1-1 del Fiorenzuola contro Limolese. Mr. si sapeva che sarebbe stata una partita difficile perché Limolese è una delle squadre più in forma del campionato. Forse hai punti qualcosina in più loro anche in termini di occasione, però bravissimi tuoi ragazzi a crederci fino alla fine e a trovare il pareggio è un punto importantissimo. Sì, 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 come ho detto prima, penso che la partita sia stata divisa in due. Primo tempo meglio loro, secondo tempo meglio noi. A livello di occasioni, ora, totali non lo so, sicuramente più predominio magari loro inizialmente, e noi comunque abbiamo avuto l'occasione, palo attraverso la stessa azione che non è semplice neanche da commentare, e secondo tempo penso che abbiamo avuto un po' più di predominio, poi è chiaro che in qualche ripartenza qualcosa concedi, quindi quello lì è abbastanza in dubbio, però non abbiamo sofferto il giusto che c'è da soffrire contro una squadra, come ho detto prima, forte, fisica, organizzata, tecnica, quindi è un buon punto con una buona prestazione, un ottimo atteggiamento che ci dà la possibilità di lavorare in settimana per preparare Forlì. Ecco, non era scontato dopo la scorsa partita, la brutta sconfitta con il San Marino, tu stesso l'hai definita la peggior partita di quest'anno, nel primo tempo è arrivato il rigore parato da Gilli che poteva dare uno sprint in più, il gol invece alla mezz'ora frutto un po' della causalità con quel mezzo tiro cross di Garavini, ecco, che cosa hai detto ai tuoi ragazzi nello spogliatoio perché poi nel secondo tempo la reazione c'è stata e come? No, abbiamo sistemato un qualcosina a livello tattico perché eravamo in difficoltà agli ultimi 15 minuti del primo tempo, al di là che in quel momento lì poi abbiamo preso il palo attraversa, ma è una cosa che proviamo, abbiamo fatto una bella giocata, abbiamo recuperato una palla dove sapevamo che loro potevano concederci qualcosa e poi sono stati bravi a costruirsi l'occasione per andare al tiro. Ho detto semplicemente che non dovevamo mollare, che c'era la possibilità di poter recuperare, che fisicamente comunque eravamo in partita, perché non è che non eravamo in partita, va messo a volte e ci si scorda un po' troppo facilmente che ci sono anche gli avversari che lavorano, non ci siamo solo noi e loro sono una squadra, come ho detto prima, organizzata, fisica e tecnica, quindi penso che abbia tutte le carte in regola per stare in alto. Siamo stati bravi a sistemare qualcosina e a giocare un po' di più noi con la palla rispetto a quello che abbiamo fatto al primo tempo. Questo ha fatto sì che ci siamo alzati, abbiamo preso diverse punizioni, qualche angolo, siamo andati al tiro, abbiamo messo tanti cross, quindi vuol dire che ci siamo alzati molto di più rispetto al primo tempo. Eravamo un po' più spavaldi, forse frutto del fatto che eravamo dietro, non eravamo niente da perdere, eravamo sotto e allora magari ci ha un po' sbloccato. Però è la strada per lavorare, è questa, con l'atteggiamento che abbiamo sempre tenuto, a parte San Marino. Quindi ci teniamo questa qui e cerchiamo di ripartire subito. Ecco, è chiaro che siamo soltanto all'inizio perché sono passate soltanto cinque partite, si può fare un'analisi appunto iniziale, grande fase difensiva soprattutto appunto nel non possesso, grande applicazione da parte dei tuoi ragazzi come punto di miglioramento, adesso un po' più in fase offensiva cercando che gli attaccanti ci sblocchino un po'. Sì sì sì, ma quello i ragazzi lo sanno, come ho detto prima, è un po' un tarlo sempre dell'attaccante, ma il palo oggi di Gozze diventerà palo-goal, è inevitabile, se uno si allena come si allenano loro, calcia bene, si lavora e tutto, prima o poi il palo diventerà palo-goal e il mezzotiro magari cross nostro andrà dentro anche il nostro, quindi quello fa... è sempre parte di una tappa, in questo momento sicuramente stiamo lavorando meglio nella fase non possesso, però come ho detto prima abbiamo recuperato una partita che non c'era ancora capitato, quindi ci prendiamo quello come cosa positiva e gli attaccanti sono sicuro che poi arriveranno, con il lavoro che stanno facendo arriveranno poi a fare i loro gol. Ed ecco, un'ultima battuta sul prossimo turno, calendario che ancora non vi sorride perché arriva la trasferta di Forlì, sarà un'altra grande battaglia mista. Sì, sì, Forlì penso sia del livello, se non più forte ancora, anche dell'Imonese, è una squadra forte, sono squadre costruite per stare in alto, quindi Forlì non l'ha mai nominato nessuno, ma nell'ambiente chi conosce un po' i giocatori, il ragatore, la società, sa che è una società che punta a stare ai vertici, alla classifica insieme alle corazzate, quindi una partita difficilissima, ma come ho detto prima sono tutte da giocare, andremo là a fare il nostro massimo come abbiamo fatto oggi e proveremo a strappare via dei punti anche da Forlì, e se no lavoreremo per preparare poi quelle dopo, nel fresco magari abbiamo il Tau che ha vinto di nuovo, quindi insomma il calendario inizialmente era questo, però il calendario è sempre una cosa relativa perché poi alla fine noi con quelle abbiamo fatto anche buone partite e abbiamo fatto dei punti, le abbiamo perse magari col San Marino che non è scarso, ma è una squadra sicuramente magari meno attrezzata della Pistoiese o dell'Imonese o del Piacenza, quindi testimone il fatto che se giochi sotto tono puoi perdere contro chiunque, se giochi a un livello alto, al massimo delle possibilità, puoi fare punti con quelle alte e magari deciderai di fare punti con quelle che sono di parito livello o sulla carta magari sotto livello. Grazie mille mister e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti.